Dunque, eccoci al sito della Decathlon Second End. Qui è molto semplice acquistare, cioè dice trovo il prodotto, vado al punto vendita, approfitto dei servizi, messo in esposizione e via. E c'è una garanzia soddisfatta dei rimborsati, su cui torneremo dopo. Come vedete i prodotti sono disponibili solo nel punto vendita indicato qua nel sito. Se anche telefonate per chiedere se lo spediscono, non lo possono fare. Dovete proprio recarvi fisicamente in quel punto vendita dove c'è quel prodotto che avete trovato. Possiamo cercarlo da qui, possiamo restringere il campo selezionando lo sport a cui siamo interessati, in atto da una selezione di sport più cercati, oppure se il vostro sport è uno di quegli sport di detti minori dovete andare a cercare giù nell'elenco. Questa è la localizzazione, si può selezionare una città e poi cercare fino a un massimo di 50 km di distanza da quella città. Non si può cercare a 100 km, dovete cambiare la città se volete fare una ricerca a tappeto su tutta Italia. E questi sono i risultati. Io di solito seleziono dal più costoso, perché a seconda di quello che sto cercando, siccome i kayak sono abbastanza costosi, saranno in cima alla ricerca in questo modo. E noi stavamo cercando un X100 da testare, da affiancare al nostro Gumotex. Infatti come potete vedere, in fondo sono rimasti quasi meno costosi, che sono accessori, pagaglie, e sopra sono i kayak. Questi sono i filtri che potete impostare, prezzo, localizzazione, come abbiamo già parlato, marche serie, perché ci può essere anche qualcosa di diverso dalla marca Decathlon, colori, anche stato del prodotto è importante, ne torneremo tra poco a parlare. Vediamo un po' com'è questo kayak. Le immagini non sono mai le immagini del kayak che è oggetto dell'inserzione, è solito l'immagine stock dell'articolo Decathlon. Qui potete decidere di contattare il negozio, qua ci sono i vari dati del prodotto, l'anno di acquisto, lo stato del prodotto, e l'induce a valutazione, cliccando, si apre una finestra, in cui ci sono dettagli in più sullo stato del prodotto. Non ci saranno foto, anche qui, del prodotto, ma ci sarà un breve campo con delle osservazioni. Ecco, questo è il codice del prodotto, buono stato, e qui, in questo campo, dice kayak nuovo, ma fondo del kayak resta. Stiamo appesi anche noi, non sapremo mai come rimane questo fondo del kayak testato da Rebecca. Perché ogni prodotto, quanto pare, viene controllato da un addetto della Decathlon. Vediamo questo qua, allora. Questo costa un po' di più. Sempre buono stato. Ok, qui, hanno acquisto il 2022, buono stato. Nell'osservazione dice, usato e riparato dove presentava delle piccole scollature in punti che non compromettono la tenuta di pressione. E questo è controllato da Stefano. Vediamone un altro. Questo. Oh, questo è stato il prodotto eccellente, per cui ci aspettiamo che non ci siano riparazioni effettuate. Ok, 2022, eccellente. E infatti, vedete, non c'è nessuna osservazione. Da questo prodotto possiamo aspettarci che non ci siano sorprese, che non ci siano riparazioni effettuate sul prodotto. Infatti, è venduto praticamente a poco meno del prezzo del nuovo. Alla fine abbiamo selezionato questo kayak che era a Castelletto Ticino. Il prezzo ci sembrava buono, per cui siamo andati ad acquistarlo. Come vedete dagli scontrini, l'abbiamo comprato domenica 24 luglio. Eravamo alla cassa un po' prima delle quattro, per cui il tempo di avere la casa. E abbiamo rimandato al giorno seguente, cioè lunedì, il processo di gonfiaggio e di controllo del kayak. Perfetto, io ora dopo averlo gonfiato e averlo provato, guarda tutto, con tutti i spunti, facciamo una bella prova di tenuta. L'ho gonfiato e poi vediamo fra un po' se è tutto ok. Qui qualcosa non va. Allora, il fondo è ancora perfetto, ma il tubo di sinistra, quello di destra, è ancora, direi, gonfio. E quello di sinistra è andato, cioè una perdita da qualche parte. Oh signore, per fortuna ho acquistato la tessera Decathlon, per cui ho diritto all'assistenza. Ci sono i due anni di garanzia e ho un anno di tempo per cambiarlo, per fare l'arreso. E domani torno al punto vendita e porto il kayak a vedere cosa si può fare, se si può riparare o se ne lo cambiano. Allora, questo è come fare il reso in negozio. Noi prima tenteremo di farlo riparare, prima di fare il reso. Comunque, se non ricarsi in qualsiasi negozio richiede la sostituzione al reso. In questo caso la sostituzione non è possibile perché è un prodotto usato. Per cui, nel caso peggiore, c'è il reso tramite la carta reso. Vi fanno la testa regalo Decathlon su cui ricaricano quell'importo speso. Però, nel nostro caso, il codice del consumo viene in nostro aiuto. Perché se il prodotto è difettoso, in questo caso un kayak che è portato a casa e è gonfiato, già perde aria, è difettoso. Si può richiedere il pagamento in contanti. Però dovete essere voi a chiederlo, perché altrimenti gli fanno la carta reso. Ok, sono qui per portarlo in assistenza alla Decathlon. Che non è quella a cui l'abbiamo acquistato. Vediamo se l'assistenza sarà ottima, ugualmente. Sono stati molto disponibili, però purtroppo per le riparazioni c'è un'officina esterna. Quindi se anche la riparazione di per sé richiede 15 minuti, più il tempo di asciugatura del mastice, la prova detenuta, il tempo prospettato per la riconsegna è di 18 giorni, forse anche per il periodo estivo. Insomma, se avete acquistato questo kayak per andare al mare dopo pochi giorni, magari con i figlioli, se avessi stato un problema, noi fortunatamente partivamo un cammino e non andavamo al mare. Notate la data, perché a questo punto il nostro kayak non è ancora stato in acqua. Il kayak è pronto, vedete il carrellino e i saccastagni legati con le cinghie, dentro la sacca del kayak, i sedili, le bottigliette. Oh no, ci siamo dimenticati di mettere le derive, dovremmo sgonfiare tutto. No, queste sono le derive nuove, si possono infilare anche il kayak che gonfio, infatti lo facciamo ora, con calma. E poi la mettermi in acqua. La fossa chiara. Parliamo adesso un po' delle performance di questo kayak al mare. Diciamo che non c'è molto vento. Qui il fondo dell'Adda risale improvvisamente, c'è questa lanca. Ed è così che si scoprono le perdite. Questo è il fondo drop stitch, che perde. Buongiorno, siamo qui a Livorno, scusate il vento, e il Livornese era di sicuro riconosciuto il lato B della statua. Siamo alla Scoglia Regina per parlarvi della conclusione di come è andata con il nostro kayak X100. Dopo che siamo accorti che il fondo drop stitch perdeva nuovamente, abbiamo riportato il kayak in assistenza, sempre a Decathlon di Gissone, dove ci erano già rivolti per la prima volta. Insomma, ho fatto presente che il fondo è stato già riparato due volte, per cui ho chiesto se, essendo in garanzia, fosse possibile cambiare totalmente il fondo, perché comunque il fondo è separato dal resto del kayak che si può cambiare, volendo. C'è anche l'opzione di acquisto del fondo, però è in garanzia, ho chiesto se fosse possibile cambiarlo. E ci hanno detto che purtroppo non dipendeva da loro, perché loro lo mandavano in officina, e poi era chi è in officina che decide se cambiare il pezzo o se ripararlo, per cui non potevano garantirci che ci avrebbero cambiato il fondo. E allora noi, a questo punto, avere un kayak con il fondo riparato più volte non ci dava tutta questa sicurezza. Anche perché un conto è se buchi il kayak e tu vai contro un ostacolo, dici, vabbè, è successo, è per colpa mia, è una cosa, una tantum, si spera. Ma un fondo che dal nulla si scolla e perde aria, perde pressione, quello è indipendente da noi. E' una cosa che potrebbe accadere in qualsiasi momento, magari anche se siamo in mare a distanza dalla costa, insomma, non sarebbe il massimo. Il kayak riesce a stare a gara ugualmente, però non ci dava più questa sicurezza, la sicurezza necessaria per affrontare il mare, e per cui a malincuore, perché il 260 euro che abbiamo pagato veramente è una cifra molto... è una cifra abbastanza bassa di questo tipo di kayak. Era un molto buon mercato, però abbiamo chiesto il reso. E se vi ricordate all'inizio del video, mentre vi facevo vedere le pagine del sito Second Hand, mi sono soffermato sul fatto che c'è il codice del consumo, che in caso di articoli difettosi vi consente di essere rimborsati nello stesso modo in cui avete pagato. Per cui, ovvio, se avete pagato con la carta regalo Decathlon, non potete chiedere che vi diano i contanti, ma noi abbiamo pagato in contanti, per cui avevamo diritto al rimborso in contanti. In realtà, quando chiedi il rimborso da Decathlon, la prima cosa che mi hanno prospettato era una carta Decathlon, a che io ho fatto presente l'articolo del codice del consumo, che è presente anche sul loro sito, e a quel punto hanno provveduto a darmi in contanti proprio la cifra spesa. Ci spiace, noi quel carico l'avevamo anche voluto tenere, vorrei tenerlo qui a Livorno, per non portarlo avanti e indietro, quando scendiamo per andare al mare, per non portarlo avanti e indietro nel bagagliare dell'auto, perché tra quello occupa parecchio spazio. Per cui lo lasciavamo qua di buono, e sui fiumi abbiamo continuato a usare il nostro Gumotex Swing 2. In realtà così non è andata, per cui l'abbiamo restituito. Probabilmente, almeno che non troviamo un altro kayak simile in occasione, non vedrete altri i nostri video sull'X100. In realtà noi stiamo tenendo d'occhio l'X500, che ci piace, ci piacerebbe provarlo, però insomma è molto importante come cifre, non si trova usato, non si trova sul secondenne, insomma, per rispendere 1200 euro per un kayak, insomma, ci piacerebbe provarlo, insomma. Poi non sa sicuri che rispenderemo 1200 euro per un kayak. Ci piacerebbe l'X500 da farci provare? No, no, se la Bigatron ce la facesse provare, prima di acquistarlo non si piacerebbe, però la vedo dura. Va bene, questa è la nostra esperienza da acquistare. acquisto col kayak Decathlon X100, tramite il programma Second Hand, speriamo che vi possa essere stata utile. Non è stata completamente negativa, ci sono stati dati positivi, dati negativi, saremmo stati sfortunati, non lo so. Magari a qualcun'altro andrà meglio. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Buon cammino e buone pagaiate anche. Buone pagaiate. Grazie per l'attenzione e alla prossima.